Chiede una mano e un intervento veloce a gran voce il sindaco di Bagnoli Roberto Milan. L'accoglienza diffusa è l'unica soluzione perché i numeri di migranti presenti all'interno dell'ex base militare non è più sostenibile. L'incontro della scorsa settimana con Alfano, al quale hanno partecipato anche i sindaci di Cona e Agna, non ha portato a nulla di concreto. Anche se il ministro nelle ultime ore ha dettato le nuove linee guida sull'accoglienza, 25 migranti ogni 1000 abitanti, ma per Milan al momento sono solo parole. Io dico che un comune di 3500 abitanti non può soleggere il fenomeno migranti della provincia di Padua, ok? E quindi in assenza di ulteriori altri provvedimenti sovracomunali, ministeriali o regionali o di chi che sia, perché io penso che tutti sono coinvolti e tutti hanno responsabilità, dei 600 migranti che sono a Bagnoli, tutti, ripeto tutti, ok? Quindi muovetevi per trovare le soluzioni e la soluzione più semplice nell'immediato è la distribuzione diffusa, 3 ogni 1000 abitanti, lo dico per i cittadini di Bagnoli, che non si meritano questo. La regione si è impegnata a finanziare un sistema di videosorveglianza nei comuni interessati dalla massiccia presenza di migranti. Per Milan, dalla prefettura, sono stati usati due pesi e due misure, con la base di Bagnoli che è diventata di fatto lab di riferimento. La caserma si riempie insomma, mentre gli altri centri, vedi Prannina, si svuotano. Hanno spostato il problema, sembra che spostare il problema da Eraclea a Cona e da Padova a Bagnoli sia una soluzione, non è assolutamente una soluzione, è aggravare un territorio che già stava in condizioni pesanti.